L'eredità è di quelle pesanti, pesantissime, sostituire Tiago Silva nella difesa del Milan e nel cuore dei tifosi rossoneri. E per chi non se lo ricordasse, la prossima stagione mancherà anche Alessandro Nesta. Gagliani e Braida sembrano avere individuato a chi affidare il compito. Mapu Yangan Biwa, capitano del Montpellier campione di Francia. A soli 23 anni, il difensore francese di origine africane ha trascinato da capitano la sua squadra al sorprendente titolo della Ligue 1. Queste immagini, girate ieri, lo mostrano già pronto per la prossima stagione, durante un amichevole contro il Kansas City, nella tournée che la squadra francese sta effettuando negli States. Yangan Biwa sbarca nelle giovanili del Montpellier a 16 anni. Giolli difensivo esordisce in prima squadra nel 2007 e da allora colleziona oltre 170 presenze con la maglia del Montpellier, conquistando prima la promozione della Ligue 2 alla Ligue 1, poi il titolo, giocando 34 partite, tutte da titolare, soprattutto nel ruolo di centrale difensivo. Inserito da Laurent Blanc nella lista dei pre-convocati per Euro 2012, viene escluso dei 23 finali. Il Milan avrebbe offerto 6,5 milioni per il suo cartellino e avrebbe già un accordo con il calciatore. La rivoluzione rosso-nera, lontana dai top player, potrebbe passare anche da lui.